Festa del patrono nella sala da ponte, l'amministrazione Pavan consegna i premi. Santa messa per il patrono nella chiesa di San Francesco, il vescovo Pizziola, è necessario recuperare la fede. Aumentano le proteste per il taglio del servizio di senologia al San Bassiano, le pazienti si lamentano. Bollette alle stele, l'europarlamentare Paolo Borchia denuncia le nostre imprese sono tra le più colpite. Il 24 gennaio per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica ci sarà anche il deputato di Cartigliano Germano Racchella. Ricorderete la segnalazione del nostro telespettatore sulla biblioteca di San Giuseppe di Cassola risponde l'amministrazione. Cinque giorni di chiusura per un bar di cittadella a decidere la prefettura, i titolari non controllavano il Green Pass. Ha provato il nuovo protocollo per il ritorno all'attività agonistica dei guariti da Covid, ambulatori di medicina sportiva presi d'assalto. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori. Oggi 19 gennaio, San Bassiano, patrono della città di Bassano. E nel pomeriggio c'è stata la tradizionale consegna dei premi assegnati dall'amministrazione comunale. Cerimonia tornata quest'anno in presenza. Il mondo dei bassanesi al centro del mondo di Bassano, in una sala da ponte che fra poco vedrete gremita per la festa del patrono, per la festa della città. Una cerimonia voluta in presenza dall'amministrazione comunale che ha visto ripercorrere la storia del 2021 bassanese, dalla cultura all'economia, dalla solidarietà all'istruzione passando per il turismo e il volontariato. Qualche proclama di troppo, con il pubblico presente immerso in un'atmosfera un po' soporifera dopo quasi 25 minuti di discorso iniziale al buio dell'assessore con delega alla cultura Maria Giovanna Cabion. Ma il San Bassiano resta una tradizione importante, radicata. Una cerimonia per premiare chi dona il proprio contributo alla città e alla comunità, come Fulvio Bicego, l'uomo dei calendari a scopo benefico. I tre premi San Bassiano, vale a dire le menzioni di benemerenza destinate a persone e associazioni di stintesi nei campi dello sport, del lavoro e del sociale, sono andate rispettivamente alla AS di Santa Croce, al giovane imprenditore bassanese Oscar Pozzobon e a Roberto Volpe, presidente dell'Unione regionale Istituti per Anziani. Il premio Città di Bassano del Grappa è stato collettivo, assegnato a dirigenti, professori, studenti e operatori scolastici del Bassanese. Infine, il premio Cultura Città di Bassano del Grappa ha visto premiato il Museo Hemingway e della Grande Guerra Fondazione Luca. E alla fine, fra scontenti e soddisfatti, finisce tutto in musica, con il tradizionale concerto di San Bassiano della Filarmonica Bassanese. E facciamo ora un passo indietro, perché la giornata dedicata al Santo Patrono si è aperta questa mattina con la Santa Messa nella Chiesa di San Francesco. San Bassiano, hai vissuto una solidarietà speciale con le persone sofferenze. Ti preghiamo, Signore, per chi sta attraversando la crisi. Per sostenere coloro che soffrono maggiormente le conseguenze della pandemia e della crisi. Per persone fragili, gli anziani, i più giovani. Sono queste le preghiere che i fedeli hanno rivolto a San Bassiano durante la Santa Messa, che, come da tradizione, apre la giornata dedicata ai festeggiamenti per il patrono della città. Ad ufficiare la celebrazione, il Vescovo di Vicenza, Monsignor Beniamino Pizziol. Bisogna recuperare la fede, questo è il suo messaggio, ed ora più che mai è necessario prendersi cura delle persone, proprio come fece San Bassiano. È venuto qui, diciamo, come patrono nel 1509 in un contesto di pestilenza. Il messaggio è prendersi cura delle persone, ma anche prendersi cura dell'ambiente, perché è tutto interconnesso l'ambiente e anche le persone che vivono in questo territorio. Voi avete un ambiente bellissimo, un territorio bellissimo dal punto di vista artistico, dal punto di vista ecologico, dovete custodirlo, dovete migliorarlo, dovete amarlo. Stiamo attraversando una pestilenza mondiale, ha continuato il Vescovo, nel ricordare le difficoltà legate alla pandemia. Torniamo ora sulla vicenda del servizio di senologia e di come verrà riorganizzato al San Bassiano, ma aumentano le proteste. Caduta dal cielo praticamente con una delibera del 31 dicembre 2021, quindi proprio all'ultimo, senza che se ne sapesse qualcosa. Si moltiplicano le voci di protesta contro la decisione del direttore generale dell'Ul7, Carlo Bramezza. Interventi chirurgici svolti in entrambi gli ospedali e soprattutto a spostarsi. Dovevano essere le equip mediche, non le pazienti. Questo prevedeva la scheda ospedaliera per l'organizzazione del servizio di senologia tra gli ospedali di Sant'Orso e Bassano. E invece le cose sono cambiate e al San Bassiano il servizio di senologia, così come era organizzato, non ci sarà più. In questo modo va a scadere il servizio che si fa ai pazienti, oltretutto non tenendo conto dell'organizzazione che era stata prevista anche con le schede famose regionali del 2019. La volontà è quella di concentrare le competenze, rispondono dai vertici dell'Ul7, anche se le pazienti faranno un chilometro in più. A voler essere precisi, i chilometri in più sono 40, anzi 80, considerando andate e ritorno. E anche qui la direzione generale ha dato un colpo di spugna. Non trovo giusto che le pazienti, comunque le donne che hanno queste problematiche e che devono rivolgersi a senologia, debbano trovarsi in questa situazione di eremitaggio, diciamo praticamente, di vagare praticamente fra due ospedali. A Bassano rimane il percorso pre-intervento, con le visite preparatorie e gli altri esami. Troppo poco e il chirurgo che opererà la paziente a Sant'Orso non la potrà visitare a Bassano. Non è previsto. Anche come donna mi sento veramente, come si dice, scandalizzata. Mi sento scandalizzata per questo tipo di scelta, che è una scelta che va a favore, dal mio punto di vista, di motivazioni economiche e burocratiche e non sente assolutamente il bisogno di capire le esigenze dei cittadini, in questo caso delle cittadine con problematiche di tumori al seno. I cittadini chiedono di non guardare solo l'aspetto economico e di non abbandonare le pazienti. A Bassano e Sant'Orso devono trovare, come minimo, le stesse opportunità e gli stessi servizi. Bollette alle stelle. L'europarlamentare Paolo Borchie dice che le nostre imprese sono fra le più colpite. Veneto sta pagando un dazio pesantissimo sul caro energia, con 4 miliardi di rincari che peseranno sulle bollette ormai alle stelle. Il gas è aumentato del 55%, vola l'energia elettrica con un più 42%. E le imprese del Veneto saranno fra le più colpite d'Italia da questi rincari. Gli effetti li stiamo vedendo sulla quotidianità degli ultimi giorni, perché abbiamo diverse aziende che lavorano in diversi settori, settori molto differenti tra di loro, che hanno iniziato ad organizzare il lavoro secondo turnazioni, perché il sabato e la domenica con una domanda più bassa l'energia costa meno. Le imprese sono in grande difficoltà e molte famiglie si trovano a dover fronteggiare i rincari in bolletta dopo quasi due anni di crisi, dovuta alla pandemia. Avevo preannunciato rischi sull'inflazione, adesso vediamo che dalla pasta al caffè al bar, purtroppo il conto sta salendo. E chiaramente in un contesto di stipendi e pensioni ferme, questi sono degli aumenti che chiaramente hanno un impatto molto molto negativo sulla nostra quotidianità. Il governo ha messo sul piatto 8 miliardi e mezzo di euro per ridurre l'impatto degli aumenti, ma con una crisi ormai chiaramente strutturale bisognerà cambiare approccio al problema. Il rischio è che si possano creare i presupposti per una crisi peggiore rispetto a quella finanziaria del 2008. Io più volte ho denunciato che le politiche ambientali sul clima dell'Unione Europea purtroppo stanno avendo degli effetti molto negativi su quelli che sono i costi delle bollette. 24 gennaio per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica e ci sarà anche lui, l'Onorevole Racchella. La prima volta non si scorda mai, soprattutto se si tratta di eleggere il Presidente della Repubblica e tra i parlamentari di riferimento del territorio, lui, l'Onorevole Racchella. E' con grande emozione che il 24 gennaio andrò a Roma a votare il Presidente della Repubblica. D'altro canto è la più alta carica dello Stato italiano. Non è da tutti, è la mia prima volta e naturalmente si sente sulle spalle anche la responsabilità di tutto ciò. Un'elezione che forse ha un peso specifico differente rispetto al passato, soprattutto per il delicato momento storico che stiamo vivendo. Sarà un Presidente della Repubblica eletto in un momento molto particolare dove avrà grandissime responsabilità. Basti vedere la situazione politica degli ultimi 4 anni. Dunque ci vuole una persona ferma, decisa e che sappia collegare il mondo politico degli ultimi anni. E chissà se da quel 24 gennaio sarà la seconda di volta dal Presidente della Repubblica per Sergio Mattarella o se in Italia si apriranno nuovi scenari. E ricorderete la segnalazione di un nostro telespettatore sulla chiusura della Biblioteca di San Giuseppe di Cassola durante il periodo natalizio. Allora sentiamo nel prossimo servizio la risposta dell'amministrazione comunale. Vi ricordate della vostra segnalazione per gli orari di chiusura della Biblioteca Civica di Cassola durante il periodo natalizio? Ecco la risposta dell'assessore alla cultura Marta Orlando Favaro. La nostra biblioteca ha e porta avanti da anni un'apertura settimanale che è la più ampia di tutte le biblioteche del circondario e siamo aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19. Durante la pausa invernale delle vacanze natalizie è vero che siamo stati chiusi dieci giorni di cui cinque erano festività pertanto la chiusura effettiva del servizio è stata di cinque giorni necessari anche per dare al personale le dovute vacanze, le dovute ferie. E l'assessore pone altre precisazioni. Sto detto anche che sono stati chiusi tre settimane durante l'estate cosa che invece non risulta essere vera in quanto le chiusure sono state effettivamente di quattro giorni dal 10 al 14 di agosto. Neanche un sabato, diversamente da quanto detto, è stato chiuso se non un sabato mattina a maggio per il cambio del servizio di gestione del prestito bibliotecario che è affidato a una cooperativa esterna. Aiutare le scuole che non sono pubbliche e contenere gli aumenti delle rette con un contributo da parte della Comune. Tutto questo accade nelle scuole d'infanzia di Romano Dezzelino. Oltre 200 mila euro è la cifra che l'amministrazione comunale di Romano Dezzelino ha deciso di destinare alle quattro scuole dell'infanzia paritarie del territorio comunale per il 2021-2022. La volontà è quella di sostenere lo sforzo educativo delle scuole non statali delle quattro frazioni del Comune. Un'iniziativa che si ripete ormai da alcuni anni. I contributi hanno lo scopo di limitare gli aumenti delle rette mensili richieste alle famiglie degli alunni. Ricordando sempre che investire nei più piccoli significa investire sul futuro della comunità. Nello specifico sono 218 mila euro con un contributo di 2,30 euro al giorno per ogni iscritto, oltre a 2.070 euro bimestrali per ogni scuola e poi 10.000 euro per il progetto Quattro Sorrisi con uno psicologo professionista che sosterrà bambini, famiglie e insegnanti nella difficile sfida con il Covid-19. E valorizzare il latte di montagna e i piccoli produttori del Vicentino. E proprio Latterie Vicentine sceglie la bottiglia in vetro per questo prodotto a chilometro zero. È prodotto da piccole aziende familiari che hanno a cuore il benessere animale e la cura di un territorio ricco, ma difficile, come la montagna. Sceglie la bottiglia in vetro Latterie Vicentine per il latte fresco alta qualità intero, prodotto di montagna. Un latte a chilometro zero che sarà disponibile negli spacci della Cooperativa Vicentina e in alcuni punti vendita della grande distribuzione. Il vetro è un contenitore ecosostenibile, riciclabile al 100% e riutilizzabile all'infinito e preserva le caratteristiche organolettiche di questo latte di alta qualità. Grina al 100% il latte di montagna, anche la bottiglia viene prodotta infatti in uno stabilimento vicino all'impianto di confezionamento per ridurre l'impatto ambientale dei trasporti. Parliamo di contagi Covid e rientro in campo che stanno mettendo in ginocchio le società calcistiche del territorio. Il Return to Play è entrato in campo, o meglio, in vigore. E questa è una buona notizia per lo sport dilettantistico. La Commissione Tecnica presso il Ministero della Salute ha infatti approvato all'unanimità la circolare per la ripresa dell'attività sportiva degli atleti agonisti guariti dal Covid. Cosa cambia dunque rispetto al passato? La novità più importante riguarda la drastica, sulla carta, riduzione dei tempi d'attesa per il nulla osta medico. Se prima, una volta guariti, bisognava aspettare 30 giorni per l'ok sanitario dopo una lunga serie di accertamenti, adesso basterà una visita medico-sportiva dopo sette giorni dalla guarigione per i calciatori under 40 asintomatici che hanno già ricevuto il booster o completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni precedenti. L'attesa sale a 14 giorni dalla negativizzazione per chi non ha ricevuto la terza dose oppure ha completato il ciclo vaccinale da più di quattro mesi. Ma attenzione, se come detto sulla carta sembra un passo in avanti fondamentale per lo sport, l'Ulss e i centri medici fanno già sapere di avere le agende piene e quindi il rischio, anzi la quasi certezza, di ulteriori lungaggini diventa il nuovo problema dei problemi. Ora vediamo le ultime notizie in breve dal territorio. Cassola Per il giorno della memoria l'assessorato alla cultura organizza giovedì 27 gennaio alle 20.30 nella sala civica del centro di urno per anziani a San Giuseppe di Cassola l'iniziativa sul filo della memoria con letture a cura della scuola di lettura espressiva. Cartigliano Giovedì 20 gennaio alle 20.45 nel Salone Nobile di Villa Cappello verrà presentato il libro Il Diamante Nero di Madu Ianca che racconterà la sua storia insieme a Nadia Battilana volontaria in Sierra Leone. Cittadella Prosegue il ciclo di incontri promossi dai 15 comuni del territorio di Cittadella e Piazzola per sostenere la crescita dei ragazzi. Giovedì 20 gennaio alle 20.30 a Villarina confronto sull'educazione dal titolo Cosa serve ai ragazzi per crescere? Rosà Interesse storico-culturale di alcuni edifici nella strettoia della statale 47 di Via Mazzini in centro il comune vuole verificare ha incaricato lo studio dell'architetto Fabio Guidolin per rilievi, foto e ricerche. Marostica Sono aperte le iscrizioni ai corsi organizzati dal CAI Marostica e dedicati ai più giovani. Le iscrizioni sono a numero chiuso e sono raccolte presso la sede dell'associazione. Cinque giorni di chiusura per un bar di Cittadella a deciderla è la prefettura. I titolari non controllavano i Green Pass. La segnalazione è arrivata dai carabinieri che più volte avevano riscontrato mancati controlli del Green Pass nel bar Il Pozzo di Cittadella. Per l'esercizio commerciale il prefetto di Padova Raffaele Grassi ha emesso un provvedimento di sospensione di cinque giorni. I titolari dovranno anche pagare una sanzione di 400 euro. Comprendiamo il disagio dei commercianti ha scritto il prefetto ma qui è in gioco la tutela e il rispetto della salute collettiva. Più di 80.000 le persone controllate dal 6 dicembre a oggi 11.000 gli esercizi commerciali Nei prossimi giorni altri bar o locali potrebbero ricevere un simile provvedimento di sospensione. Siamo alla rubrica dei vostri presepi allora vendiamo alcuni bellissimi lavori dei vostri tanti presepi. di sospensione di sospensione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.